In questi giorni ricorrono i 250 anni dalla nascita della Beata Leopoldina Nodè, fondatrice dell'Istituto Sorelle della Sacra Famiglia. Domenica sera alle 17 il Vescovo presiderà la messa nella Casa Madre dell'Istituto. Saranno quattro giorni di eventi organizzati dalla Fondazione Verona Minori Jerusalem, a partire dal 7 giugno per un progetto che ha l'obiettivo di rendere sempre più accessibili le opere di Fra Giovanni nella Chiesa di Santa Maria in Organo. Nell'ambito del progetto Erasmus Plus, oggi è stata ospite dell'Istituto Superiore Calabrese Levi di San Pietro in Cariano, l'orchestra giovanile Isiu. Buonasera, ben ritrovati dal Tg di Telepace. In questi giorni ricorrono i 250 anni dalla nascita della Beata Leopoldina Nodè, fondatrice dell'Istituto Sorelle della Sacra Famiglia. Domenica sera alle 17 il Vescovo presiderà la messa nella Casa Madre dell'Istituto. L'evento è aperto a tutti. Vediamo il servizio di Lucio Fasoli. Domenica sarà una giornata importante per l'Istituto delle Sorelle della Sacra Famiglia, a Verona, per l'anniversario della nascita della fondatrice, la Beata Leopoldina Nodè. Una storia straordinaria la sua, contemporanea e amica di Santa Maddalena di Canossa, San Gaspare Bertoni ed altri fondatori veronesi come il Provolo, che prima l'ha vista viaggiare e conoscere l'Italia e l'Europa, grazie alle origini francesi del padre. La particolarità di aver attraversato l'Europa al suo tempo, perché è nata nel 1773 a Firenze, ma poi per il servizio che svolgeva, ha seguito la corte del Gran Duca di Toscana, che poi è diventato imperatore di Vienna, è passata attraverso l'Europa del tempo. Poi è ritornata in Italia e alla fine è approdata a Verona e ha fatto nascere noi, sorelle della Sacra Famiglia. Quindi una svolta spirituale importante. Ecco il motivo per cui pensò di creare un istituto per salvare situazioni sociali e religiose compromesse. Era il periodo suo della rivoluzione francese, dove ha visto tanti disastri, ha visto che tante situazioni erano estromesse. Il clero, soprattutto in Francia, lei è di origine francese, il papà era francese, era stato espulso e si erano occupate di dare anche alloggio, di dare assistenza a tutti questi espulsi a causa della fede. L'istituto è presente oggi in Italia, Brasile e Filippine. Sono una sessantina attualmente le suore che in collaborazione con i laici si occupano della formazione integrale della persona grazie ad attività nelle parrocchie, negli istituti scolastici, come insegnanti, cercando di aiutare, soprattutto in missione, le famiglie ad avere una maggiore autonomia e sicurezza nel campo sociale. Certamente 250 anni di vita della nostra fondatrice, Beata Leopoldina Nodè, è un evento che per noi, sorelle della Sacra Famiglia, è grande. È un senso di riconoscimento e di ringraziamento che nasce proprio dal profondo di tutti noi. E la celebrazione con il Vescovo dà questo significato di essere all'interno di una Chiesa che si prende cura di tutta la realtà, di tutti gli esseri umani, di tutte le persone e sentire la presenza del Vescovo vicino a noi è proprio questo forte legame con la Chiesa. Sabato alle 18.30 in Cattedrale a Verona, il Vescovo Domenico conferirà il Sacramento dell'Ordine a cinque nuovi diaconi per la Chiesa di Verona. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telepaccia a partire dalle 18.25. Domani si festeggia il 77.00 anniversario della Festa della Repubblica, la cerimonia in programma al mattino dalle 10.00 in Piazza Bra. Saranno quattro giorni di eventi organizzati dalla Fondazione Verona Minori Jerusalem a partire dal 7 giugno per un progetto che ha l'obiettivo di rendere sempre più accessibili le opere di Fra Giovanni nella Chiesa di Santa Maria in Organo, grazie a laboratori e visite esperienziali. È stato presentato oggi il progetto di Verona Minori Jerusalem intitolato L'arte dell'accoglienza innovativa e inclusiva tra architettura, pittura e intarsio nella Chiesa di Santa Maria in Organo, con una serie di eventi che si svolgeranno dal 7 all'11 giugno mettendo al centro le opere d'arte di Fra Giovanni per i 500 anni, un progetto di arrivo e di ripartenza. Di arrivo dopo sei mesi di lavoro dove abbiamo lavorato con volontari, professionisti, enti specializzati per l'accessibilità, per preparare degli strumenti di accessibilità perché il nostro servizio di accoglienza sia sempre più attraverso l'accessibilità inclusivo e sostenibile, sostenibile in questo caso sostenibilità sociale. Noi vogliamo che l'arte sia, anche dopo 500 anni, questo grande maestro intarsiatore e trasmetta ancora dei valori. Le esperienze che noi proponiamo sono degli eventi che mettono in luce un aspetto un po' inedito di Fra Giovanni, cioè quello dell'artista Monaco, che rimane spessissimo anonimo e che collabora con una bottega da lui costruita. Questo ci assomiglia molto perché è un po' il nostro stile, cioè la professionalità che pure è molto presente nella fondazione non prevarica la quantità di volontari che sono i nostri collaboratori, il cui lavoro è essenziale. È un modo per tessere relazioni, è un modo che anche Fra Giovanni aveva imparato, Fra Giovanni ha viaggiato tantissimo per quell'epoca, ha tessuto relazioni con Andrea Mantegna, con Raffaello, con Leonardo da Vinci e ha tessuto relazioni qui a Verona creando proprio una scuola di arte della Tarsia. Il progetto sarà presentato al pubblico mercoledì 7 giugno alle 20.15 nel Salone dei Vescovi in Curia, alla presenza tra gli altri del Vescovo Pompili. Tra le proposte nella chiesa di Santa Maria in Organo ci sarà una visita esperienziale sui misteri del legno venerdì 9 giugno alle 19 e l'approfondimento spirituale sull'opera di Fra Giovanni da Verona la mattina di domenica 11, partner del progetto e anche l'Università. Partecipiamo a questo progetto dedicato alle Tarsie di Fra Giovanni da Verona in Santa Maria in Organo, avendo costituito un comitato scientifico a cui sono stati affidati i contenuti propriamente di ricerca legati a questa magnifica opera e lavorerà nei prossimi due anni fino al centenario dedicato a Fra Giovanni con l'intento di organizzare un grande convegno internazionale che farà il punto in maniera veramente straordinaria dal nostro punto di vista su questo grande artista veronese. Parliamo adesso della sinergia tra la Pia Opera Ciccarelli e l'IRCS di Negrar. Da alcune settimane attivo il progetto di refertazione cardiologica a distanza a favore dei 600 anziani non autosufficienti accolti negli otto centri di servizio della fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus. Grazie a un sistema di telemedicina ora è possibile effettuare l'elettrocardiogramma direttamente in casa di riposo e trasmetterlo in tempo reale alla cardiologia dell'ospedale di Negrar per la refertazione. Nell'ambito del progetto Erasmus Plus oggi è stata ospite dell'Istituto Superiore Calabrese Levy di San Pietro Incariano l'orchestra giovanile ISIU, European Spirit of Youth Orchestra con uno speciale concerto dedicato agli studenti delle classi terze. Si è trattato dell'ultimo di quattro appuntamenti del percorso, la festa dell'Europa, per affrontare in classe i temi della cittadinanza e delle politiche europee, quello che si è tenuto stamattina al Teatro A Noi di San Pietro Incariano, il concerto dell'orchestra ESIO, European Spirit of Youth Orchestra davanti a 200 studenti dell'Istituto Calabrese Levy al termine di un percorso di conoscenza. L'Istituto Scolastico ha pensato opportuno dedicare un mese all'Europa, l'Europa come valore, valore che unisce popoli, che unisce culture e che permette ai nostri ragazzi di volare anche al di fuori del territorio presso cui la scuola è situata. L'Istituto è accreditato per i progetti Erasmus da più di qualche anno, per cui noi pensiamo che sia un investimento che vada portato avanti con coerenza, con continuità, per permettere loro di crescere. Erano 12 giovani musicisti tra i 12 e i 18 anni, provenienti da diverse nazioni europee, che fanno parte di un'orchestra straordinaria nata 30 anni fa, creata dal maestro Igor Coretti Curet, che porta avanti i diali europei di cooperazione. E abbiamo sentito la violinista proveniente dalla Serbia. È stata una bellissima esperienza far parte di questa orchestra, si conoscono tante culture. È incredibile alla mia età stare con diversi ragazzi e giovani di così tanti paesi. Facciamo la stessa cosa, anche se veniamo da culture e vissuti diversi. Le nostre scuole hanno metodi diversi, ma noi abbiamo tutti passione per la musica. L'orchestra che rappresenta è lo spirito europeo dei giovani. Sono gli unici ad essere capaci di superare tutti i cliché, tutti i pregiudizi che la società adulta gli sta trasmettendo, scoprendo quanto è importante impegnarsi in un progetto comune, che è quello della scrittura musicale, della composizione, che i grandi compositori del passato hanno creato. In questo sforzo comune, dove ognuno cerchi di dare il massimo di sé per ottenere quell'eccellenza che un musicista ricerca per tutta la vita, senza mai raggiungerla naturalmente. Comunque, questo sforzo li accomuna, li fa diventare, naturalmente, partecipi e partner di un qualcosa che poi si sente in occasione dei concerti. Paolo Rumiz, intervenuto con un videocollegamento questa mattina, sarà poi in Val d'Adige con l'Orchestra Internazionale dei Giovani Europei domani a Villa del Bene di Volarne e Dolce per i Festival della Lettura con un primo intervento alle 18, quindi il concerto alle 21. L'appuntamento è gratuito e aperto a tutti. E adesso vediamo il prossimo numero del settimanale diocesano Verona Fedele. Cari telespettatori e care telespettatrici di Telepace, un saluto dalla redazione di Verona Fedele. Il settimanale diocesano racconta in questo numero l'impresa di Francesco. Si tratta di San Francesco, ma si tratta anche del Papa Francesco che qualche anno fa ha chiesto a tutti, in particolare ai giovani, di tirare fuori nuove idee per una nuova economia. Un'economia che non sia solo sfruttamento e profitto, ma che sia anche e soprattutto rispetto dei lavoratori, rispetto delle persone, rispetto dell'ambiente. E queste tematiche sono arrivate in Rivaladige nei giorni scorsi. La Fondazione Antoniolo ne ha parlato con personaggi illustri e con imprenditori. Stanno germogliando molte belle iniziative e molte belle idee. Vedremo nei prossimi mesi. Abbiamo intervistato il nuovo presidente della provincia di Verona, dell'ente provincia, Flavio Pasini, che è anche sindaco di Nogara. Si è trovato con un ente un tempo importante, poi la riforma Renzi l'aveva un po' azzoppato lasciandolo in mezzo al guado. Il personale è quasi andato via, ma le competenze sono rimaste. Ora si sta riprendendo. Tra l'altro le competenze sono molto importanti. Strade, scuole, ambiente, urbanistica. C'è bisogno di rilanciare e far uscire questo ente dal guado. Abbiamo anche un articolo interessante, una riflessione sull'Europa. Qualche anno fa sembrava l'Unione Europea un'idea fallimentare. I populismi la stavano devastando. Cosa serve l'Europa? Questi ultimi anni, con la crisi economica, la pandemia, con la guerra in Ucraina, abbiamo scoperto in realtà una risposta convincente dell'Europa, che è ancora, probabilmente, uno dei pochissimi, sia l'unico baluardo di libertà e di democrazia esistente nel mondo. Infine ho reso conto della festa dei popoli che si è tenuta domenica scorsa a Villa Buri. Una manifestazione molto bella, multicolorata, multietnica, che ha fatto divertire e che ha fatto riflettere. Un saluto da Nicola Salvagnini. Domenica, nuovo torneo di Baskin, il basket inclusivo, con la seconda edizione di Baskin Primavera. Alla palestra Le Grazie di Borgo Roma si sfideranno Buster Ability Verona e anch'io Baskin San Giovanni alle 15.30 e Buster Ability Verona contro Mille Colori Mozzecane alle 17.00. un doppio appuntamento in cui circa 60 atleti delle tre società si contenderanno la seconda edizione della Coppa del Torneo. È tutto, grazie per essere stati con noi.